giovedì giovedì 28 marzo 2019 ieri abbiamo fatto un team world e anche oggi abbiamo un team world è bello cambiare ogni tanto quindi fate dei team da tre perché dovrete fare 4 times 600 metri run 6 rope climbs 20 bench press di nuovo 600 metri run 9 rope climbs 35 bench press e per concludere 600 metri run 12 rope climbs e 50 bench press la grafica qui di fianco vi aiuterà per individuare pesi scalature più idonee al vostro stato di fitness per il resto direi che è tutto ci sentiamo domani anzi ci vediamo domani per un ultimo appuntato della settimana su c per tv ciao e buona giornata